milena bentornato vladimir ci hai dato un esercito soldi ben spesi per la tua causa compagni siamo ancora insieme per i vostri sforzi in mia assenza e il successo di oggi io vi ringrazio e vi punisco ivan so che non ti sei fidato del mio piano hai perso tempo nel tempo prezioso il tempismo è tutto comandante con tutto il rispetto if bisogna sempre ammettere i propri errori andrei hai dimostrato quanto vali e da ora c'è il mio secondo grazie comandante fratelli miei anche se non ero qui sono sempre stato con voi da allora i nostri nemici sono più forti l'ulf ha ripreso il controllo dell'urgistan ora il momento dimostrare loro cos'è il vero potere una battaglia di percezione le bugie volano la verità striscia e basta controlla il pensiero della gente controllerà il mondo questa è la nostra arma sarà il nostro strumento di guerra per ridare gloria alla russia la vera russia l'occidente e le sue amate scelte ne avrà solo una reagire stando ai nostri termini ogni secondo conta quando è fuggito makarov ha attaccato su più fronti il gruppo coni ha colpito il porto dell'urgistan prima dell'alba fara era lì è ferita negativo la sua squadra ha subito delle perdite ma è coni che ha avuto la peggio ben fatto farà che hanno preso al porto un carico di missili americani coni ai suoi missili cosa vuole farci makarov dobbiamo scoprirlo l'istoro intracciando quando li troveremo agiremo prima hai parlato di più fronti laswell dacci un bersaglio le forze di coni stanno convergendo su una centrale nucleare proprio adesso una centrale attiva abbandonata dopo la sconfitta di barkov e cosa cerca scopritelo voi ragazzi ok costa io la centrale soppe gas occhio al perimetro se vuole un'arma nucleare lo fermeremo subito ricevuto diamoci da fare bravo un minuto pronti la cassa è pronta se dovesse servirci useremo quell'attrezzatura servirà rampa 30 secondi quota di apertura 600 metri proprio limite come sempre vediamoci al punto di raduno si pronti via vuocere una bravo monitoraggio attivo attenzione coni a tre elicotteri a terra posizioni marcate con fumogeni arancioni punti di estrazione per il materiale nucleare affermativo quegli elicotteri sono i bersagli primari distruggeteli e potremo orginare questa minaccia roger mi muovo per fornire copertura ti vedo capitano ti terrò aggiornato da qui grazie dell'aiuto watcher per makarov bisogna mobilitare tutti john ghost rilevi qualche picco di radiazioni negativo gli elicotteri sono puliti possiamo usare esplosivi su di essi capito bravo 7 1 in posizione 6 1 in posizione perimetro esterno sicuro 0 7 pronto bravo in posizione puoi procedere sei il drone ti mostrerà le posizioni sei drone da ricognizione marco versare un elicottero ricevuto sei è il tuo bersaglio siamo alle postazioni primarie con in vita metto il perimetro in sicurezza fai in silenzio finché il capitano non apre le danze ti prometto niente price coni nei pressi dell'elicottero fa piano ricevuto tu coprimi fattuglia di coni nella tua zona sei occhi aperti apre il fuoco attenzione sei coni crea un perimetro intorno all'elicottero a 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 Sì, vabbè! Nemico a terra Il cantiere è sgombro sai Raggiungi quell'elicottero Ti danno la caccia sai L'elicottero subisce danni Sta di vedetta Ghost Riferisci tutto ok? Con questo posso fermare gli elicotteri Falli fuori Capitano rinforzi coni diretti verso di lei Capitano ancora niente radiazioni Johnny, Garrick, trovato niente? Niente Vale anche per coni Se non c'è materiale radioattivo Cosa cerca coni? È quello che scopriremo Ghost, controlla le radiazioni Identiche a prima, Watcher I livelli sono nella norma Connie sta ancora cercando Che cosa vuole? Qualunque cosa sia deve restare qui Al prossimo elicottero Attento ci sono parecchi nemici nell'evicinante Ci sono torrette robot Cerca e distruggi Fuoco Andiamo Adesso sanno di noi Aspettiamo il protettore! Aspettiamo! Misha! Vedi! 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 Attivo Lua V Capitano, vedo un palletto all'edificio Turbine Devo localizzare un ingresso Radioattività stabile, non si è ancora mosso niente Qualcosa non ritorna Ghost, controlla l'area, tienici aggiornati Ricevuto Fa tutte le unità, occhio ai nemici sul tetto Ricevuto, ottima vista, Ghost Bravo, abbiamo velivoli coni in arrivo con dei rifotti Coni aumenta le difese del secondo elicottero Preparati Grazie Bravo, sei, UAV offline Si stanno avvicinando, Capitano Difenditi R.P.G. dai tetti R.P.G. dai 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 L'elicottero di supporto ti ha perso. Procedi. Watcher, ho trovato una porta tenuta stagna. Ben sigillata. Quello è il reattore, sai? Serve la corrente per entrare. Se tiene Connie fuori... Dovrebbe esserci un lanciatore tra l'equipaggiamento lanciato. Sarebbe efficace. No, 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 no. Cerca delle armi antiaeree nelle casse di scorte e abbattilo. No, 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 no. Grazie a tutti Vedo l'ultimo elicottero Bene, neutralizzalo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I canni non si porterà via niente Attenzione, bravo sei I canni è entrato nel reattore Devi scendere là sotto Quell'elicottero di supporto deve sparire Non ci ha ricevuto nuovi ordini Sono all'entrata Ricevuto Sto entrando Capitano, c'è un elicottero nemico in sorgolo sul reattore Sta dispiegando le funi Con, ha trovato qualcosa? Hanno chiamato l'estrazione secondaria Dobbiamo fermarli adesso A tutte le unità Con mi sta estraendo contenitori da dentro Sei, hai conferma del contenito Negativo Bravo Fuoco su quell'elicottero Tiratelo giù Ricciando l'elicottero Spingato Oh Troppo angolazione Troppo angolazione Troppo angolazione Troppo angolazione Porca puttana A tutte le unità Con mi sta estraendo sostanze chimiche Mi ha caricato il gas su quell'elicottero Ci sfuggiranno Puoi rintracciarli, Watcher Ci sto provando, Ghost Qui sei Il reattore è sigillato Sono chiuso dentro Sei Segnalano truppe di Con mi Entrate nel reattore Si ripari Speriamo a prenderla Con mi non cercava materialità Dall'inizio Le sostanze erano qui Arrivano, Capitano Ci siamo quasi Il gas si avvicina, bravo Come facete? Arriviamo, Campo Ci siamo quasi Fa' il culo l'altezza A tutti Il piano terra è compromesso Io sono al primo piano Siamo arrivando, Capitano Previnta Capitano, siamo qua su Prendi la corda Preso Preso, tirate Rip esta, signora Capitano, signora Resista, signora Previnta Se i due Watcher servono soccorsi Buongiorno, signore. Piano, capitano. Ha resistito al gas, ma deve riposare. Sto bene. Mal di testa? Nausea? Sempre. Sta bene. Temevo che vi si sarebbe solta la faccia come a quei poveracci. Secondo me sarebbe stato un miglioramento. Gonne ha preso le sostanze. Affermativo. Makarov è tornato libero da sei ore e sta già diversi passi avanti. Che cazzo c'è in quel gas? Residui del programma di Barkov. Sarin? Molto concentrato e molto più letale. Una capsula ha contaminato tutta l'area. Possono sterminare una nazione. Al momento è nel territorio di Farah. Dobbiamo trovarla.